Confermo che è pura fantasia quello ipotizzato da questi piedi, pura fantasia. Io ho dato una mano a una famiglia con figli che era abituata a vivere nell'agio e che si è trovata nella povertà più nera. E l'ho fatto nel confronto di questa famiglia come lo faccio nel confronto di una miriade di persone che ricorrono a me. Quando vedo che ci sono motivi veri per dare una mano a qualcuno, lo faccio, visto che me lo posso permettere.